Buongiorno, Buongiorno, buon lunedì 15 di ottobre, ben trovati alla nostra rassegna stampa. Iniziamo subito con le prime pagine dei quotidiani regionali, partendo dal centro che già vedete alle mie spalle. Il titolo di apertura della edizione di Pescara, eccolo qui, salvato dopo due giorni in mare. Il pescatore era disperso per il naufragio della barca, recuperato dalla guardia costiera di Pescara. Quasi un miracolo per lui. Poi nel taglio alto la manovra pace fiscale, governo diviso e il Viminale frena su Riace. Poi la risposta al Ministero 5 Stelle, Masterplan spunta la delibera che blinda i fondi dell'Abruzzo. Andiamo a vedere poi lo spazio delle cronache. Andiamo nelle cronache locali a Pescara, emergenza in centro, la stazione di nuovo ricovero dei disperati, materassi e cartoni abbandonati in strada e sui marciapiedi, vicino a rifiuti ed escrementi, coperte appallottolate e sistemate tra i rami degli alberi che fungono da armadi e anche da taccapanni per i vestiti, resti di cibo e bottiglie vuote abbandonati ovunque, a pochi passi dai bidoni della spazzatura. L'area esterna alla stazione ferroviaria di Pescara ha assunto di nuovo l'aspetto di un indecoroso dormitorio a cielo aperto. E se di notte ci sono disperati che si accontentano di riposare al freddo e al gelo, di giorno i segni del degrado sono sotto gli occhi di tutti. Fratelli d'Italia lancia nuovamente l'allarme sicurezza. E poi ancora a Pescara stop a chi sporca, scritte con lo spray, pronte 200 telecamere, l'amministrazione comunale prepara le contromisure per fermare i vandali, il centro è di nuovo pieno di scritte, ieri il sindaco Marco Alessandrini ha preannunciato l'arrivo di 209 telecamere da installare nei punti più critici della città per tenere sotto controllo il territorio. A Montesilvano spacciava a Mariana arrestato un 23N, un arresto e una denuncia. Il bilancio dell'attività del fine settimana dei carabinieri della compagnia di Montesilvano che hanno bloccato uno spacciatore dopo averlo sorpreso a cedere lo stupefacente e hanno intercettato un uomo che circolava con Arnesi da scasso. Andiamo adesso a centropagina, ieri giornata importante per l'Abruzzo, fedeli in festa a San Pietro a Pesco Sansonesco, l'Abruzzo esulta per Nunzio proclamato santo. E qui vedete la foto dei fedeli abruzzesi in piazza San Pietro per la canonizzazione del santo Nunzio sul Prizio. Andiamo adesso nello spazio da leggere, l'intervista a Mimolo Caciulli nel mio disco Il tempo brucia sotto le ceneri. Nel taglio basso troviamo lo sport, il calcio di Serie B con Baroni che dice il Pescara è micidiale, l'ex allenatore punta sui biancazzurri, la Serie A dice è possibile. Dopo un lungo silenzio è tornato a parlare del Pescara e lo ha fatto a distanza di 1248 giorni, ovvero da quel 16 maggio 2015 quando dopo il capo di Varese fu esonerato tra Marco Baroni e Pescara però il cordone umbilicale non è mai stato reciso. Vengo spesso e volentieri da voi racconta il 55enne tecnico fiorentino. E poi c'è un po' di Pescara anche nella vittoria importante di ieri sera dell'Italia in Polonia. Ecco, qui 0-1 in Polonia, una bella Italia, ritrova la vittoria con il gol di Cristiano Biraghi proprio allo scadere della partita dopo una gara, possiamo dirlo, dominata dall'Italia. Andiamo avanti con il centro, cambiamo edizione, questa è l'edizione di Chieti Lanciano Vasto, il titolo di apertura cade sul tombino, paga il comune. Chieti, pensionata, si rompe il femore, va in ospedale, risarcimento di 30 mila euro. Il taglio alto è identico rispetto a quello che abbiamo letto in precedenza. Allora andiamo nelle cronache, ritroviamo il naufragio di Martin Sicuro, pescatore trovato vivo dopo due giorni in mare. Trent'anni di polizia ti abituano a tutto, ma il sovrintendente capo Giuseppe D'Addario sa che quegli attimi in mare lo accompagneranno per sempre, perché è stato lui il primo volto che il 35enne Giovanni Amodio ha visto dopo quasi due giorni in acqua. Da Martin Sicuro a Pescara, trascinato dalle correnti dopo che la sua barca alla pesca si è rovesciata, lo cercavano da venerdì sera, lo hanno trovato nel primo pomeriggio di ieri ad 8 miglia da Pescara. Appena salito sulla barca che lo ha salvato, Amodio ha voluto telefonare alla madre per tranquillizzarla sulle sue condizioni di salute. E poi San Salvo, spari contro l'auto, telecamere al vaglio, potrebbero essere le telecamere accese davanti alla filiale della BCC, ad aiutare i carabinieri a risalire alla gang che all'alba di sabato ha fatto il tiro a segno contro un'Alfa 159 di una barista di origine straniera, parcheggiata in Via delle Viole. L'auto in realtà, ma anche se intestata la donna, è usata normalmente dal figlio 28enne che ha presentato regolare denuncia ai carabinieri. Poi ancora Chieti, addio a Bascelli, lunitalsi in luto e morto all'età di 76 anni, Roberto Bascelli, volontario tatino, dal cuore d'oro. A centropagina ritroviamo la canonizzazione del Nunzo sul Prizio, andiamo nel taglio basso per il calcio dei dilettanti, poker a Cupello. Il Chieti rinasce il titolo sull'eccellenza pari della Vastese, poi per la Serie D, oggi probabile cambio sulla panchina, appunto quella della Vastese di Palladini potrebbe essere una storia al bivio per quanto riguarda la squadra che milita nel campionato nazionale dei dilettanti. Passiamo sempre sul centro all'edizione terramana, andiamo a vedere il titolo di apertura, schianto in moto, muore a 21 anni, tragedia a Villapetto, il ragazzo è finito contro un muretto vicino a casa sua. Andiamo a vedere poi lo spazio delle cronache, ci spostiamo dal Badriatica, a sparatoria, si cercano gli altri testimoni, è una ricostruzione dettagliata, quella che i carabinieri hanno già messo nero su bianco nei primi rapporti finiti in procura sulla sparatoria di Alba, mancano solo pochissimi particolari che potrebbero arrivare da altri testimoni, due cittadini albanesi fuggiti dopo gli spari, entrambi sono stati identificati dai militari e non è escluso che già nelle prossime ore possano essere rintracciati. Ancora raffiche di multe dei pellegrini a San Gabriele raduno delle confraternite, più di 70 confraternite provenienti dal centro Italia ma soprattutto da Marche d'Abruzzo si sono radunate ieri al santuario di San Gabriele ad Isola del Gran Sasso dove sono arrivati circa 10.000 fedeli. Una giornata di festa e di preghiera rovinata dalla raffica di multe alle auto dei pellegrini nel divieto di sosta. Andiamo a vedere il taglio basso con lo sport, la domenica del basket Roseto Sharks primo squillo Cagliari travolto in B il Teramo cede nel derby col Pescara. Proseguiamo con il quotidiano il centro l'ultima delle quattro edizioni provinciali quella aquilana in apertura ubriaco causa incidente viene arrestato 41enne era fuggito e accusato di omissione di soccorso due feriti nello scontro. Poi ad Avezzano bancarotta al processo padre scagiona il figlio il titolo sulla cronaca giudiziaria il giovane imprenditore finisce sotto accusa per la bancarotta fraudolenta ma durante il processo viene scagionato da una testimonianza del padre che si autoaccusa del reato prendendosi le colpe di tutto e viene assolto. La storia di MC 30 anni di Avezzano comincia quando dopo il fallimento della sua azienda finisce sotto processo entrando in una lunga spirale giudiziaria a Sulmona dopo anni trasferito il deposito dei bus della tua e la fine di un incubo dopo avere per anni respirato l'aria inquinata dai gas di scarico dei pullman i residenti della zona di via del Cavallaro e di via Lamaccio a Sulmona finalmente possono tornare a nuova vita gli stessi che per tanti anni hanno portato avanti la battaglia contro la sede officina dell'ex arpa ora tua nel taglio basso il calcio di serie D in primo piano Avezzano arriva il primo punto prima categoria l'Aquila potrebbe avere la partita vinta Avezzano che ad Agnone riporta il primo punto del campionato di serie D che cancella lo zero in classifica per quanto riguarda invece la prima del girone A l'Aquila potrebbe vincere a tavolino la gara con l'atletico Civitella ora cambiamo testata andiamo a vedere anche la prima pagina del messaggero in certo Abruzzo il titolo di apertura è sul miracolo in mare salvo dopo 40 ore il pescatore di Martinsicuro Giovanni Amodio trovato vivo a largo di Pescara ha trascorso in acqua due notti sono in tanti a parlare di miracolo pensando al beato di Pesco Sanzonesco è chiaro c'è una strana coincidenza in una giornata di festa per l'Abruzzo e lo è ancora di più per questo ritrovamento in mare quasi isperato ma andiamo a vedere poi proprio la notizia che riguarda la canonizzazione il nostro ragazzo Papa Francesco esalta Santo Nunzio 3000 fedeli a Roma per la canonizzazione grande emozione dice il Vescovo festa in paese poi ancora Strade di Sangue Teramo muore in moto a 21 anni a Villapetto di Colledara abbiamo già letto in precedenza Guido Di Marco in mattinata è riuscito con una comitiva di amici poi la fotografia che invece ci richiama al titolo di apertura con la didascalia stremato ha subito telefonato alla madre per quanto riguarda appunto il salvataggio in mare andiamo a vedere di spalla adesso premio Mumi a Cerlino e all'Angelo con il bisturi riflettori per il cattivo di Gomorra e la chirurga dei bimbi Maria Grazia Andriani nel taglio basso l'Aquila rinasce troppe vie al buio nel centro storico del capoluogo di regione diamo nel taglio alto adesso il basket debutto interno ok per gli Sharks che si sbarazzano del Cagliari poi il rugby l'Unione dell'Aquila comincia male secca sconfitta in casa col Catania e per la Serie B parla l'ex DS Marino fiducia nel Delfino la squadra sa come vincere ho visto grande forza e coesione dice un collettivo che funziona molto bene incoraggiante il giudizio di un vecchio amico del Pescara sulla partenza dei Biancazzurri lasciamo le prime pagine regionali adesso apriamo lo spazio dedicato al nazionale andiamo a vedere i principali quotidiani italiani partiamo dal Corriere della Sera in apertura la manovra il governo cerca 2 miliardi di euro per quanto riguarda le coperture Conte sul reddito di cittadinanza va evitato il rischio di assistenzialismo vertice notturno su coperture fisco Berlusconi dice deriva autoritaria e Salvini sta zitto per quanto riguarda poi la questione migranti e Riace il chiarimento del Viminale migranti via da Riace soltanto se lo vorranno non ci saranno trasferimenti forzosi e poi c'è l'editoriale di Angelo Panebianco nord e sud divisi chi tiene insieme l'Italia si chiede Panebianco poi andiamo nel taglio alto in Germania in Bavaria colpo a Merkel in Baviera alleati sconfitti balzo dei verdi ultradestra al 10% un piccolo terremoto politico nel più ricco land tedesco la fine di un'eccezione durata quasi 60 anni alle elezioni regionali la CSU alleata della Merkel incassa il peggior risultato dal 1950 avanza anche l'estrema destra andiamo avanti con i quotidiani nazionali la Repubblica adesso il titolo di apertura pensioni d'oro lega no ai tagli sulla manovra manca l'accordo duello Salvini di Maio reddito si potrà rifiutare primo lavoro dossier flop dei centri per l'impiego il personaggio messo in evidenza da Repubblica è Marco Minniti la voglia di provarci ma marcando l'autonomia da Renzi Renzi l'ex segretario del PD che aveva proprio spinto Minniti a candidarsi alla segreteria l'ex ministro dell'interno ci sta pensando e poi l'intervista a Carlo Cottarelli non sono il trombato il RAI per i soldi soltanto per mai per i soldi soltanto per spiegare così l'ex commissario della spending review andiamo a vedere nel taglio basso il ponte di Genova tutti i silenzi di autostrade raffica di non so dei vertici agli ispettori del ministero e poi il caso Riace la trincea dei migranti da qui non ce ne andiamo il Viminale uscite volontarie andiamo sulla sulla stampa in apertura la Baviera si innamora dei verdi crollano conservatori e socialisti la FD non sfonda exploda gli ecologisti guidati da Kataschulze Rutelli leadership femminile anche in Italia il ministro Fontana ora un'alleanza tra PPE e populisti terremoto politico in Germania il voto regionale minaccia anche il governo della Merkel l'impatto a Berlino il tramonto della grande coalizione e l'editoriale a commento proprio di questa notizia e poi scendiamo invece in casa nostra in Italia reddito di cittadinanza scontro fra nord e sud di maio nel mezzogiorno solo il 53% delle risorse oggi manovra che va in consiglio cambiamo testata sul fatto quotidiano titolo di apertura guerra totale Zingaretti e Gentiloni spingono Renzi fuori dal PD lui è pronto l'ex premier va alla convention del governatore ma elogia Minniti e questo è il titolo che riguarda insomma le beghe interne al partito democratico nel taglio alto la Baviera terremota il governo Merkel verdi e destra boom e poi le rovine di Aleppo Siria un prof italiano ingaggiato per rifare il minareto distrutto il progetto per la torre bombardata nel 2013 andiamo avanti con il sole 24 ore c'è un ampio focus lo vedete sulla pace fiscale che attira i contribuenti ma costa troppo chiudere le liti secondo un sondaggio condotto proprio dal sole 24 ore atteso il decreto sulla definizione agevolata del contenzioso tributario per il 61,9% dei professionisti l'interesse dei clienti è rilevante per il 73% però l'operazione non risulta conveniente il punto più contestato sono gli sconti a chi ha vinto la causa in primo e in secondo grado rispettivamente del 50% e del 75% dell'imposta non pagata andiamo avanti chi paga l'addio ad Ace e i diri il confronto vecchio nuovo con la prevista abolizione delle misure per chi ricapitalizza l'arrivo della flat tax e dei mini se cambia il prelievo sulle imprese sugli autonomi e sui professionisti e l'approfondimento proposto dal sole 24 ore ora il messaggero andiamo a vedere anche qui il titolo di apertura pensioni alte stop alle rivalutazioni verrà cancellato l'adeguamento all'inflazione previsti ritocchi anche per gli assegni medi ancora scontro sul fisco il via libera rischia di slittare oggi resa dei conti nel consiglio dei ministri e poi la Baviera cambia pelle l'unione europea trema dei verdi crollano se su espede per quanto riguarda la brexit stretta finale Bruxelles-Londra la questione irlandese ultimo ostacolo per l'accordo sembrava esserci l'accordo poi la smentita da parte di Teresa May che ha detto che ancora molti punti sono da concordare poi l'editoriale di Marco Gervasoni effetto Germania da Monaco un monito all'Europa di Juncker passiamo sul tempo ancora giornali romani per le sagre 17 mila euro al giorno il conto di Zingaretti la regione ne ha stanziati altri 758 mila per il Natale negli ultimi due anni finanziamenti a fiere e feste ci sono costati 12 milioni questi conti in tasca la regione Lazio aiuto Nicola vuole salvare scusate il PD con me rinasce la sinistra poi a centropagina scusate il caso Cucchi ecco cosa non torna nella tra virgolette verità del carabiniere confessione e depistaggi andiamo su Libero il giornale dei Vescovi vuole bruciare Salvini detto demonio lo vuole bruciare avvenire pubblica così una vignetta del comunista Staino che invoca l'esorcista per liberarsi del vice premier giornalista di Repubblica scrive che Matteo e i suoi andrebbero appesi per i piedi come dei fascisti a centropagina ritratto di un fenomeno Crozza il comico più amato dagli italiani andiamo sulla verità adesso modelli di economia perversa industria dell'accoglienza in crisi senza sbarchi mancano le risorse tra virgolette il numero dei migranti arrivati in Italia è sceso dell'80% i centri profughi cominciano a chiudere le cop che speravano di avere introiti continui restano prive di lavoro scattano così i licenziamenti Riace chiama il Tar contro Salvini e Lampi parla di favore alle mafie e poi il titolo su quanto accaduto in Baviera voti in fuga dalla Baviera e Lussemburgo per Merkel e Juncker e Batosta elettorale scendiamo a centropagina tutte le maxi pensioni d'oro dei banchieri servono 1,5 miliardi per gli sbancati bussare ai manager c'è chi prende 51 mila euro al mese sul giornale Guainvista ladri di pensioni e il titolo oggi il governo approva la sforbiciata taglia gli assegni per oltre un miliardo Berlusconi la Lega ci ringrazia se è al potere sul secolo d'Italia Batosta Bavarese il titolo abbastanza eloquente con la foto di una insomma arrabbiata Angela Merkel nel land più ricco della Germania storico flop della Zessu alleata della Merkel boom dei verdi civici della nuova destra di Alternative e Fur Deutschland e la fine di un'epoca si chiede il giornale che fa riferimento a Fratelli d'Italia nel primo piano Meloni immagina il futuro serve un grande movimento Renzi o lavorare riciclarsi e inneggia alla resistenza per il PD e ancora inchiesta sul modello Riace fu avviata da Minniti ministro andiamo sul mattino di Napoli il titolo principale riguarda le interviste del mattino imprenditori senza scrupoli aiutano i clan Casalesi estese a Napoli l'allarme dell'antimiafia il procuratore Caffiero De Rao gli eredi del boss Zagaria si stanno riorganizzando ride armati strada non bastano i posti di blocco il piano va rivisto e poi il primo piano anche le pensioni stop alla rivalutazione degli assegni per quanto riguarda le pensioni più alte Di Maio dice recupereremo un miliardo andiamo a vedere i quotidiani sportivi nazionali partiamo dalla gazzetta dello sport questa è Italia è il titolo scelto dalla gazzetta finalmente la nazionale vince e convince una zero in Polonia Biraghi gol al 92esimo è dedica a Dastori vedete la foto con le mani che indicano il numero 13 proprio il numero della maglia del capitano della viola evitata la serie B della Nation League dopo oltre un anno successo in una gara ufficiale decide il terzino della Fiorentina saremo teste di serie nelle qualificazioni europee Mancini commenta un dominio miglioreremo ancora oggi tutti da Mattarella per i 120 anni della FIGC andiamo nel taglio alto Pep tra Carletto e Arrigo io in Serie A perché no Guardiola Cruif mi aprì gli occhi Ancelotti Lidl è un maestro Sacchi allenatori siate coraggiosi dibattito sul VAR collina chiamata dai tecnici dice di no Rizzoli finora solo 4 errori poi per quanto riguarda la Pellegrini a Tokyo non farò la turista fede bagno di folla per la campionessa di nuoto meno 6 al derby riecco mister Silvio Higuain troppo solo Milan a due punte prima uscita da patron del Monza la partita è finita 1-1 con la Triestina contro l'Inter la guarderò in tv dice Berlusconi con disappunto ancora i piani segreti dei due allenatori da Perisic a Cala le 5 fatiche di Spalletti e Gattuso Juve sabato contro il Genoa il ritorno di Douglas Costa lo spacca partite per il volley Forza Azzurra schiacciate il Giappone ed è subito semifinale la partita su Rai 2 alle 12 e 20 andiamo sul Corriere dello Sport il titolo sulla Nations League e sulla partita dell'Italia è bellissima l'Italia domina colpisce due traverse e fa festa in Polonia vincendo 1-0 allo scadere la nazionale più emozionante degli ultimi anni condanna Milik alla B decide al 92esimo Biraghi che dedica il gol ad Astori assist di Lasagna preferito a Immobile Mancini può ancora vincere il Girone si deciderà tutto nella partita di San Siro contro il Portogallo Piatek Roma-Napoli si scatena l'asta sull'attaccante polacco il DS Monci ha già un'intesa con il manager dell'Aurentis ha offerto 35 milioni a preziosi a gennaio vedremo che cosa accadrà mini gioia per Ronaldo intanto il figlio realizza una doppietta e lui posta sul social per vivere una giornata in famiglia Berlusconi boccia Rino non gli piace il Milan di Rino Gattuso all'ex presidente non piace andiamo avanti tutto sport il titolo di apertura Piatek Juve vi dico tutto per i netti di G del Genova un bomber d'altri tempi ora non ha prezzo a giugno deciderà il mercato Napoli Inter e Bayern nei rivali dei bianconeri nel taglio alto visto morire Meroni Roberto Campini poi diventato medico del Toro era sul posto e racconta Gigi ucciso davanti a me esclusivo testimonianza inedita a 51 anni dalla scomparsa di spalla il cuore azzurro di Biraghi che mette a segno il gol che salva l'Italia dalla possibile Serie B nel taglio basso i mondiali di volley i mondiali volley vai Italia la partita contro il Giappone per l'accesso alle semifinali come detto alle 12.20 su Rai 2 adesso ci fermiamo per il break pubblicitario prima però andiamo a vedere le previsioni del tempo e poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna che sarà largamente dedicata allo sport come ogni lunedì con i servizi soprattutto delle partite di Serie D a tra poco eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6 iniziamo subito con la pagina Abruzzo del centro giorno storico a Pesco Sanzonesco un unzio diventa santo gli abruzzesi esultano in migliaia anche dall'estero hanno partecipato all'evento atteso da 182 anni tra la folla in paese anche i discendenti di un miracolato dal giovane Fabbro nella pagina successiva il Papa dice è il nostro ragazzo la proclamazione in piazza San Pietro insieme a Romero e a Paolo Sesto continuiamo con la pagina Abruzzo il braccio di ferro con il governo la regione blinda i fondi del masterplan l'olio e tra assessori approvano la delibera che finanzia una grande incompiuta e mette in cassaforte i milioni per l'Abruzzo la somma per completare il potabilizzatore dirottata all'acquedotto che serve Chieti e Pescara nel taglio basso la politica Tavani a Bellachioma rispetta i nostri tempi il centrodestra verso le regionali Fratelli d'Italia ribatte alla Lega e dopo di Bastiano contatta anche Cicchetti andiamo a vedere l'apertura della pagina di Pescara sul messaggero che ci fa tornare alla canonizzazione del Beato Nunzio la commozione dei pescaresi per Santo Nunzio 3.000 fedeli da Pescara a Piazza San Pietro per assistere alla canonizzazione del giovane sul prizio nel giorno di Paolo VI Monsignor Valentimetti commenta grande emozione ho detto a Papa Francesco che lo aspettiamo in Abruzzo poi ospedale emergenza continua due guardie giurate sono state aggredite colpite a pugni e calci da un paziente in stato di agitazione episodio fotocopia un mese fa nel taglio basso viviamo Pescara in aula per dire no all'area di risulta la manifestazione dovrebbe esserci nella seduta del Consiglio in programma mercoledì andiamo anzi torniamo sul quotidiano il centro andiamo a vedere l'apertura della pagina di Pescara stazione di nuovo invasa dai disperati materassi e cartoni tra cumuli di spazzatura i senza tetto sgomberati più volte sono tornati all'arme di forconi di fratelli d'Italia nella pagina successiva schierate 200 telecamere contro chi imbratta la città il sindaco Alessandrini annuncia contromisure per fermare i vandali con lo spray ma il vero rimedio è l'educazione che i docenti dovrebbero insegnare a scuola andiamo avanti adesso andiamo a vedere la pagina di Chieti risarcimenti per le strade distrutte cade sul tombino spaccato il comune paga 30 mila euro pensionata si rompe il femore a causa del marciapiedi pericoloso un'altra stangata indennizzati anche nove pedoni e automobilisti via libera agli accordi per evitare le cause il voto in provincia rucci impegni per i piccoli comuni se no disertiamo questo chiede il sindaco di Ripa nel taglio basso è morto Bascelli pioniere dell'unità al si aveva 76 anni torniamo sulle messaggero la pagina di Chieti cadute danni per le buche il comune paga 50 mila euro risarcimenti riconosciuti alle vittime di ferite e fratture su asfalti e marciapiedi abbiamo visto già in precedenza accordi tra le parti o sentenze impongono all'ente l'esborso di cifre importanti incidenti anche per molte auto e poi colpi di pistola sull'Alfa indagini incrociate a San Salvo sull'episodio accaduto sabato nel taglio basso auto a fuoco notte di paura ad Ortona in via fiamma distrutto una vettura GPL vigile al lavoro fino all'alba gomme scoppiate torniamo sul quotidiano il centro torniamo al giallo di San Salvo anche qui il titolo spari contro l'auto telecamera al setaccio caccia al veicolo dal quale sono stati esplosi sette colpi i proprietari della 159 dicono ignoriamo chi e perché ci ha fatto questo ancora Drangheta in Abruzzo riparte il processo per 106 imputati infiltrazioni nel vastese attese le dichiarazioni del boss Ferrazzo a Rocca San Giovanni precipita dall'albero di Ulivo grave un 85enne pescarese nel taglio basso turisti in calo incassati 20 mila euro in meno a vasto diminuiti gli introiti della tassa di soggiorno nella pagina successiva quella aquilana scontro fra auto ubriaco a causa incidenti e fugge ma viene catturato il 41enne aquilano è accusato di omissione di soccorso visto che sono rimaste ferite due persone e di lesioni colpose poi ancora medaglie a 5 perai rimasti invalidi la consegna in occasione della giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro nel taglio basso 100 pellegrini con petrocchi a Fatima questa mattina la partenza per il Portogallo prima di passare alla pagina di Teramo andiamo a vedere la pagina dell'Aquila sul messaggero eccola qui il difficile rientro in centro tra movida cantieri e buio sempre più complesso conciliare i bisogni dei residenti con i lavori e la vita notturna la ricostruzione genera disagi di accesso ma è l'inciviltà a generare i guai principali nel taglio basso andiamo a vedere ubriaco provoca incidente scappa e viene arrestato effetto Bronx lo definisce il messaggero come detto andiamo a vedere la pagina di Teramo e qui abbiamo la notizia della giornata di ieri un miracolo salvo in mare dopo 40 ore un 35enne di Martinsicuro è sopravvissuto al naufragio è stato ritrovato ieri a largo della costa pescarese l'imbarcazione è colata a picco ci ha raccontato che appena calato le reti in acqua l'elica si è agganciata rovesciando la barca il soccorritore ha detto era in ipotermia poi a pianto mentre telefonava a casa dove lo aspetta un bambino ogni tanto si raccontano anche storie a lieto fine per fortuna la sparatoria ad alba con coltellate caccia ad altri due albanesi e l'altra notizia di cronaca ancora cronaca nel taglio basso con la moto contro un muro muore a 21 anni Guido Di Marco stava percorrendo la statale 491 del Gran Sasso nei pressi di Villa Petto andiamo a vedere la pagina di Terramon anche sul centro eccolo qui salvataggio miracoloso trovato vivo dopo due giorni mare recuperato a largo di pescare il pescatore di Martinsicuro naufragato venerdì sera che ha commentato pensavo di non farcela più e poi i familiari è finito un incubo la mamma e la zia dell'uomo tra le prime ad arrivare all'ospedale di Pescara ancora la tragedia a Colledara si schianta con la moto muore a 21 anni vedete qui la fotografia di Guido Di Marco a Villa Petto il giovane è finito contro un muretto a pochi metri dalla sua abitazione andiamo avanti adesso apriamo le pagine dello sport partiamo dalla Serie B e dal Pescara Bianca Azzurri in vetta parla l'ex tecnico Marco Baroni a tre anni dal suo esonero un pescara micidiale che può puntare alla Baroni si racconta credo nel Delfino e vengo spesso all'Adriatico a tre anni dal suo esonero come dicevamo commenta non mi sono piaciuti i modi Sebastiani nessun rancore in città ho tanti amici e quelle cene di pesce che ricorda con molto diciamo affetto verso le cene di pesce e poi nel taglio basso la Zero Cloud di Falzitti trionfa alla Barcolana primo posto di categoria nella storica regata di Trieste andiamo a vedere anche l'apertura dell'Abruzzo Sport sul Messaggero anche qui si parla del Pescara anche se c'è la sosta Marino Pescara sai come vincere la società ha già vinto due campionati una nobile della Serie B dice l'ex DS le Big Stentano Verona Crotone Benevento Palermo non tengono il passo dopo sette giornate ancora Antonio Balzano quel sogno che dura da sei anni l'intervista al giocatore qui vedete una foto contro il Benevento e poi ancora così ho parato il rigore decisivo suona la carica Stefano Mammarella che si è fatto trovare puntuale tra i padi dopo il colpo alla mano destra in Champions per quanto riguarda invece il calcio a cinque torniamo sul quotidiano il centro andiamo a vedere la Lega Pro le reazioni dopo l'1-1 di Rimini per il Teramo mercoledì arriva il Fano Campitelli Teramo ora devi svoltare il presidente il 3-5-2 ci ha dato più compattezza ma contano i punti una vittoria darebbe serenità a tutti il patron recrimina sull'arbitraggio di sabato siamo stati penalizzati e su Zichella dice non sono io a dirgli come giocare in questo momento gli va data fiducia andiamo avanti adesso andiamo in serie D partiamo dalla Vastese la crisi bianco-rossa Vastese pari amarissimo Palladini paga per tutti squadra da sette mesi senza vittoria il tecnico esonerato in bidico anche Ruffini scatta la contestazione dei tifosi per il futuro favorito Montani ex San Nicolò la partita è finita col Forlì 1-1 tra poco l'andremo a vedere andiamo a vedere prima però il titolo sulla serie C e poi sulla partita della Vastese per la serie C il messaggero scrive buttata all'aria una vittoria meritata il virgolettato del presidente Campitelli che fa il punto dopo la beffa del pari a Rimini e sbuffa Zichella il trainer non sto lavorando per un cambio in panchine mercoledì arriva il Fano possibile anche il rientro di Caidi andiamo a vedere il titolo che riguarda la Vastese eccolo qui Vastese la beffa è servita fino a 4 minuti dal termine della partita contro il Forlì Biancorossi hanno sognato di portare a casa la vittoria e noi andiamo a vedere insieme il servizio di Paolo Renzetti La gara della Ragona si è chiusa con la curva d'Avalos a chiedere a gran voce l'esonero del tecnico Ottavio Palladini la Vastese rinvia ancora una volta l'appuntamento con la prima vittoria della stagione e ora la posizione del tecnico è davvero a serio rischio dopo le prime schermaglie il quinto ci prova Fiore dalla distanza con la sfera che finisce sopra la traversa al nono minuto sugli sviluppi di una punizione e Leonetti in area a mettere di testa di poco fuori avvio promettente per gli aragonesi pericolosi anche al tredicesimo con una inzuccata di Giampaolo che manca di pochissimo il bersaglio grosso dopo una buona prima parte di gara gli abruzzesi rischiano però al ventiduesimo quando Tonelli dalla sinistra effettua un tiro cross insidioso e con la palla che attraversa tutta l'area piccola senza che nessun attaccante Forrivese riesca ad arrivare all'appuntamento con la sfera il Forri arriva poi ad un passo dal vantaggio al ventiseiesimo quando Graziani chiama di una parata miracolosa Morelli che salva porta e risultato cresce la formazione di Campedelli guidata da un ispirato Tonelli che sulla fascia destra fa quello che vuole si arriva così nell'ultimo quarto d'ora di primo tempo con Leonetti pericoloso per la vastesa al trentunesimo e con la palla che finisce però ancora al lato la partita resta viva con i romagnoli Maidomi al trentanovesimo c'è però una buona opportunità per Giampaolo che mira all'angolino trovando una deviazione in angolo di un difensore avversario al trentanovesimo colpo di testa Beffardo di Stivaletta che costringe Mordenti a respingere in maniera difficoltosa quasi sulla linea ultima emozione del primo tempo al quarantaseiesimo con una punizione di Mazzotti per gli ospiti che chiama Morelli al salvataggio in corner nella ripresa stessi 22 di inizio gara in campo al nono padroni di casa ad un passo dal vantaggio ma prima Leonetti tiro respinto e poi Giampaolo mancano l'appuntamento con la rete dell'uno a zero che però arriva al tredicesimo proprio con Vito Leonetti che si inventa un euro goal facendo esplodere la curva d'Avalos per una rete che ha il sapore della liberazione il tecnico ospite subito dopo il gol decide di mandare in campo Castellani per Baldinini i locali ci credono e attaccano ancora sfiorando il 2-0 in maniera clamorosa al ventiduesimo con Stivaletta che si divora la rete tutto solo davanti a Mordenti spedendo il pallone incredibilmente a lato gioca bene ora la squadra di Ottavio Palladini che meriterebbe anche il raddoppio al cospetto di un Forlì che sembra accusare lo svantaggio al 31esimo c'è però un lampo ospite con Mazziotti che chiama alla parata Morelli al 33esimo doppio cambio locale con Pagliari e Colarieti in campo per Palestini e De Meio la gara entra così nella sua fase calda con i Romagnoli che trovano il pareggio con Castellani al 41esimo che di testa sugli sviluppi di un corner supera imparabilmente Morelli gelo alla Ragona con il finale amaro per la formazione di casa e con al 46esimo la conclusione di Stivaletta a cui si oppone Mordenti al 47esimo Ridolfi con il portiere Mordenti fuori dall'area prova la conclusione della domenica ma il pallone termina di un soffio alto al 48esimo e poi Napolano a provarci ma la porta Romagnola è stregata si finisce con la contestazione della curva all'ingrizzo del tecnico Palladini ora davvero ad un passo dalle sonne ed ora la sconfitta del Francavilla c'è troppo Cesena per il Francavilla i giallorossi durano solo un tempo partita finita 2 a 0 per il ritorno al Manuzzi del Cesena l'espulsione di Biondini rischia di complicare i piani dei bianconeri ma poi un doppio Alessandro è implacabile condanna il Francavilla vediamo la partita 8354 persone hanno scelto di ricominciare 8354 persone da 5 mesi aspettavano questo momento 8354 persone sono tornate finalmente a casa una buona domenica da Cesena Orogel Stadium Dino Manuzzi tutto pronto si comincia è cominciata Cesena Francavilla con il Cesena subito al possesso di palla al giro palla intanto attenzione subito Banegas se ne va lui Banegas grande idea dell'argentino il tiro cross e la parata di Agliardi ma grande inizio del Francavilla Tortori cerca il cross secondo pallo Ricciardo di testa poi Alessandro anticipato da Nazari poi defende sul limite sinistro spacca se ne va Valeri sul settore di sinistra dentro campagna la palla all'indietro Ricciardo Ricciardo con il sinistro palla fuori ancora squillo Cesena schiare Alessandro va con il destro Tortori tocca spacca e calcio d'angolo altra palla gol calcio d'angolo cambia di fatto poco nella sostanza il colpo di testa poi Ricciardo con il sinistro Ricciardo affossato affossato Ricciardo poi qui rischia il Francavilla affossato Ricciardo la voglio rivedere 36esimo minuto la voglio rivedere Rosso Rosso per Biondini qui cambia tutto termina qui il primo tempo 0 a 0 il parziale all'Oroge Stadium Dino Manuzzi dopo 47 minuti di gioco è pronto si ricomincia il secondo tempo è cominciato ora con Cruz quasi al limite Cruz si gira il destro brivido gran destro di Cruz e grande palla gol per il Francavilla Alessandro ancora dalla bandierina il cross dentro l'area di rigore il tocco Ricciardo pallone sulla linea deviato da spacca brividissimo qui per il Francavilla Noce prova a caricare la gente di Cesena a soffiare Alessandro il cross copo di testa traversa traversa clamorosa di Tortori Alessandro se ne va lui Alessandro mette il turbo Alessandro irresistibile Alessandro dentro l'area Alessandro mi alzo i piedi ha segnato Danilo Alessandro è un gol magnifico 1-0 Cesena attenzione Banegas quasi al limite Palumbo Palumbo con il destro Agliardi si allunga rischia l'arbitro la palla dentro l'area di rigore colpo di testa di Valeri non è il più alto ma il più bravo Sanseverino cerca il destro Sanseverino Agliardi vola Agliardi gran parata di Agliardi attenzione regolare per Valeri non si alza la bagnerina se ne va Valeri dentro l'area Valeri 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 giù Valeri calcio di rigore calcio di rigore per il Cesena e giallo per Molenda e rosso per il pelatino di qui sopra giallo e rosso per proteste Caldera Alessandro contro Spataro ecco il fischio del direttore di gara va Alessandro con il destro Alessandro gonfia la rete ancora Danilo Alessandro Cesena 2 Francavilla 0 contropiede Cesena Capellini 3 contro 2 4 contro 2 da questa parte Capellini per Alessandro di prima grande idea campagna campagna esce Spataro la porta vuota Capellini poi Tola Tola al salvataggio il salvataggio di Nazari Cesena 2 Francavilla 0 3 punti fondamentali meritati con il cuore con il sudore con il carattere per il Cesena di Beppe Angelini è un trionfo il ritorno è la prima all'Orgel Stadium Dino Matanuzzi Relli entra e realizza l'1-0 in pieno recupero occasionissima per Mangiacasale una punizione troppo severa per i giallorossi di Stallone il tecnico ha schierato del grosso dal primo minuto Costa Caro un errore difensivo in occasione del secondo gol realizzato dagli ospiti titolo sul Giulianova anche del messaggero il Giulianova piegato dal Matelica e dall'Eurogoal di Pignat tiro da 30 metri che si insacca all'incrocio partita che finisce 1-2 vediamola nel sottile file dell'equilibrio che accompagna per buona parte della contesa reale Giulianova e Matelica a fare la differenza sono i dettagli e le protezze personali come quella che confeziona Pignat centrocampista del Matelica che ad una manciata dei minuti dalla fine spedisce alle spalle di Scibo una conclusione d'applausi che vale i tre punti e il primo posto in classifica Alfadini va in scena una gara godibile sul piano del ritmo fisica a tratti e in parte condizionata ad alcune decisioni arbitrali che fanno storcere il muso e non poco nel flangello rosso e la sconfitta degli uomini di Stallone secondo stop di fila penalizza oltramisura la prova offerta dal Giulianova punito nel momento nel quale aveva alzato il baricentro la ricerca forse della vittoria di prestigio il Real Giulianova si presenta in campo con lo schieramento consueto 3-5-2 con il nuovo Mangiacasale che parte dalla panchina e sarà utilizzato nel finale il Matelica invece è orfano di Margarita nella prima frazione sul piano della manovra il Matelica formazione di assoluto valore si fa preferire ma il Giulianova è molto bravo a non concedere spazio al decimo la palla buona però capita a Di Paolo che da distanza ridotta non impatta la sfera due minuti più tardi sul versante opposto la staffilata di Melandri Sibila vicino all'incrocio sul fine di tempo i marchigiani tornano a spingere in maniera pericolosa al 38esimo sull'angolo di Losicco Pignat di testa spedisce sul fondo mentre al 42esimo sul sinistro dalla distanza di Riccio Sciba è reattivo al rientro in campo Stallone progressivamente cambia pelle alla sua squadra dopo l'innesto di Palladini in luogo di Balducci acciaccato il trainer giallo-rosso toglie una punta di Paolo e inserisce un centrocampista offensivo Torelli passano tre minuti il nuovo entrato fa esplodere il Fadini scaricando alle spalle di Avella un bel cross di Fazzini il Giulianova però nell'unica vera disattenzione difensiva della sfida subisce il gol del pari dopo meno di due minuti la spizzata di Dorato viene monetizzata al meglio da Pignat che firma l'uno a uno la sfida resta molto equilibrata con il Giulianova che inizia progressivamente a prendere campo mentre gli ospiti non sono lineari in fase di possesso come nella prima frazione al 39esimo però la neocapolista opera il sorpasso Fioretti difende la palla forse ostacola in maniera fallosa un avversario e scarica per Pignat che non ci pensa su e scarica un destro che muore sotto l'incrocio dei pali il Giulianova ferito reagisce in maniera rabbiosa e in pieno ricupere al 50esimo Mangiacasale si libera e disegna un destro che muore di poco alto sulla traversa il Giulianova cade per la prima volta in stagione Alfadini tra gli applausi del pubblico di casa il Matelica invece incassa i tre punti che valgono l'aggancio alla vetta della classifica e allora capolista beffati in una giornata abbastanza amara per le abruzzesi San Nicolò Notaresco gelato dalla Savignanese Tonfo dopo sei partite gli ospiti rispondono a Liguori con un micidiale 1-2 capitano Mozzoni rende omaggio a un tifoso scomparso la partita è finita 1-2 Cudini al novantesimo meno aggressivi nella ripresa il tecnico chiede subito il riscatto analizzeremo gli errori andiamo a vedere il titolo sul notaresco anche del messaggero notaresco stanco Savignanese gode e allora vediamo il primo stop davanti al proprio pubblico del San Nicolò Notaresco la marcia del notaresco si ferma per mano della Savignanese i romagnoli battono 2-1 tra le muramiche e la formazione di Cudini risultato che arriva al termine di un buon primo tempo giocato dai padroni di casa che poi però calano i ritmi nella ripresa Cudini conferma il consueto 4-3-3 con i soliti Liguori, Minella e Moretti in attacco la sorpresa positiva blando confermato in cabina di regia e Candellori che scende in difesa per lasciare spazio a Marcelli sulla mezzara destra Savignanese è reduce dal K.O contro l'Isernia a nel capitano Brigli fratello del più noto Matteo e nell'attaccante Longobardi gli uomini più esperti lo stesso Longobardi ha subito una buona occasione a inizio gara ma l'attaccante non inquadra da ottima posizione lo specchio della porta all'ottavo si crida al calcio di rigore a Savini complice una segnalazione non molto chiara dal direttore di gara ma sull'intervento sul Minella non ci sono gli estremi per l'arbitro che lascia proseguire un altro episodio da Moviola arriva al sedicesimo quando Moretti va in discesa sulla sinistra e mette in mezzo il primo assistente sugli sviluppi segnala una posizione di fuorigioco probabilmente dello stesso Moretti ed il gol di Pedrone di casa viene di conseguenza annullato il notalesco però può gioire prima della mezz'ora Mozzoni va in sovrapposizione sulla sinistra e mette in mezzo un cross basso su cui si fionda Liguori per il quarto gol stagionale dell'attaccante un minuto più tardi lo stesso Liguori vede l'inserimento di bontà che non si aspetta però il liscio di Gregorio non trovando poi l'impatto con il pallone la Savignanese trova estrema difficoltà a rendersi pericolosa dalle parti di Monti mentre la formazione di Cudini chiude avanti il primo tempo con un calcio di punizione del solito Liguori che Minella non riesce a girare verso la porta nella ripresa la partita si incattivisce anche con la complicità di un direttore di gara che perde di mano il match il notaresco commette l'errore di smettere di giocare ed in sei minuti cambia incredibilmente la gara la Savignanese alza mano a mano il baricentro e trova il gol del pareggio al 26esimo con Longobardi poco dopo la mezz'ora in ripartenza Scarponi serve sulla sinistra Francesco Manuzzi che trova l'incredibile gol del vantaggio al Savini Cancelli entrato al posto di Blando testa i riflessi di Pazzini al 36esimo ma il notaresco non riesce davvero a reagire all'1-2 degli avversari a Girandola di Cambi non muta l'inerzia del match e per la formazione di Cudini arriva il primo stop stagionale nonostante la sconfitta però il notaresco rimane primo in classifica in coabitazione con il Matelica primo K.O. in casa anche per il Pineto Pineto distratto Sant'Arcangelo rimonta e vince il titolo del centro pesano le assenze di Pomanti Amadio Amaolo dovevamo chiuderla sul 2-0 prima dell'intervallo il titolo anche del messaggero sul Pineto Pineto alza bandiera bianca passa il Sant'Arcangelo 1-2 vediamo il servizio prima sconfitta casalinga per il Pineto che è passato subito in vantaggio con Mancini si fa rimontare e sorpassare da un buon Sant'Arcangelo l'approccio dei biancazzuri questa volta è dei migliori e dopo neppure due giri di lancette il Pineto passa in vantaggio Mazzai serve pedalino sulla sinistra l'appoggio per Mancini e la deviazione vincente del numero 10 Maini si immola ma non riesce ad evitare l'istantaneo 1-0 dopo una buona mezz'ora di gioco rivediamo il solito Pineto che si abbassa troppo al 31esimo brividi per la formazione di casa quando Cascione fa partire un lungo lancio dalle retrovie per 5 l'incertezza di Fargione in uscita con il numero 11 che tutto solo spedisce incredibilmente oltre la traversa l'ultimo sussulto del primo tempo al 46esimo sempre sull'asse Cascione 5 questa volta di testa la sfera termina fuori di un soffio troppe le disattenzioni e le incertezze come quella che potrebbe costare Cara a 18 secondi dall'inizio della ripresa quando Cascione dal dischetto del centrocampo vede Fargione fuori dei pali e prova a sorprenderlo l'estremo difensore Biancazzurro riesce a tornare sui suoi passi ad alzare la sfera che carambola sulla traversa poi la difesa rimedia come può episodio da rivedere al dodicesimo quando sulla punizione pericolosa di Cascione i giocatori del Sant'Arcangelo protestano per un presunto fallo di mano il direttore di gara Luca Capriolo della sezione di Bari lascia proseguire e il preludio al gol del pareggio che arriva al 26esimo quando i romagnoli ripartono in contropiede mettendo fuori gioco il centrocampo locale Camplone interviene in maniera scomposta su Guidi appena entrato a rilevare Broli e Capriolo assegna il calcio di rigore dal dischetto Falomi spiazza Fargione e fa 1 a 1 punizione telecomandata di Cascione per la testa di Maini che è lasciato libero di saltare la piazza all'angolino opposto per il definitivo sorpasso nel finale il fineto prova la reazione disperata al 39esimo la punizione di Villanova lascia tutti col fiato sospeso dando l'illusione del gol e qualche applauso strozzato parte in tribuna incredibile quello che accade poi al 41esimo angolo di Villanova colpo di tacco sotto misura di esposito e salvataggio sulla linea di Guidi che dopo essersi procurato il calcio di rigore suggella la giornata di Grazia negando il pareggio ai Biancazzurri segno che quella di oggi non era giornata dopo quattro minuti di recupero festeggia il Sant'Arcangelo la seconda vittoria consecutiva terza sconfitta in sei partite invece per un fineto che paga a caro prezzo le disattenzioni reo di aver lasciato troppo l'iniziativa agli avversari svegliandosi solo quando ormai era troppo tardi d'ora l'avezzano biancoverdi sfortunati portiere para tutte per l'avezzano altri 90 minuti di rimpianti vantaggio di Cerone pari dei molisani e show di Venturini ma il punto di Agnone cancella lo zero in classifica sul messaggero avezzano 1-1 ad Agnone non basta il gol di Cerone il mister soddisfatto ma partita complicata per Federico Giampaolo vediamo il servizio Al Civitelle finisce con un pareggio il terzo consecutivo per i padroni di casa tra l'Olimpia agnonese e l'avezzano calcio una partita piuttosto equilibrata anche se Granata hanno avuto molte più occasioni degli avversari ma andiamo alla cronaca il fischio d'inizio coincide con la prima occasionissima per i ragazzi di mister Foglia Manzillo c'è la Min per Sorgente che ci prova dal cuore dell'area ma Fanti con la punta delle dita manda in corner al sedicesimo è sempre la Min a farsi insidioso con un tiro rasoterra che va fuori di un soffio l'avezzano si fa vedere solo al ventesimo minuto con un tiro di deramo dal vertice dell'area che Venturini è bravo a deviare in corner al ventisettesimo arriva la svolta Cerone servito da Schirone è libero dagli avversari imbambolati di insaccare indisturbato la rete dell'1-0 l'agnone però non si lascia intimorire più di tanto e al quarantaseiesimo pareggia i conti così con Sorgente che tira proprio addosso a Fanti il numero uno abruzzese respinge e la sfera sulla ribattuta finisce tra i piedi di Gentile che è pronto ad insaccare il gol dell'1-1 finale con le immagini di Antonio Masi eccoci nella ripresa l'avezzano sembra deciso ad allungare le distanze al quarto minuto ci prova a Deramo dalla sinistra la palla è fuori di poco al tredicesimo è Pellecchia da fuori area che non inquadra lo specchio della porta al ventiduesimo ancora Deramo protagonista con un tiro dal limite dell'area che va al che fino a quel momento sembra soffrire le incursioni abruzzesi tenta di reagire al ventitresimo c'è De Zai per la Min che non riesce a trovare la conclusione per pochissimo un minuto dopo con un'azione fotocopia Fanti è bravo a parare al trentaduesimo il neo entrato Basilio Antonelli dal limite dell'area sfiora la traversa al trentanovesimo è scontro in area tra Niang e Besana i due in un impatto piuttosto violento riportano ferite alla testa che necessitano di punti di sutura per cui si decide di ricorrere alle cure mediche ospedaliere del vicino Caracciolo e i due ragazzi vengono portati via in ambulanza l'incontro si chiude con questa azione pericolosa di Conti al cinquantesimo che sgancia un bolidem a Venturini è pronto a tuffarsi ancora un pareggio dunque per l'Olimpiagnonese che deve assolutamente recuperare qualche punto in più per allontanarsi dai bassi fondi della classifica per l'Avezzano che la classifica la deve comunque smuovere per recuperare i punti di penalizzazione con cui è partito in questo campionato è comunque un punto d'oro le altre notizie sul messaggero l'eccellenza con il Chieti che cale il poker a Cupello e si rilancia in classifica partita finita 4 a 1 le altre il San Buceto cade a Paterno c'è uno stop a Paterno il Capistrello ora è secondo nel taglio basso la promozione Lanciano primo KO in Val di Sangro e poi l'Aquila che non ha giocato perché non si trova uno stadio adatto partita non giocata con l'Atletico Civitella Roveto per quanto riguarda il basket SIECO esordio shock Bergamo 3 a 0 non da scampo i ragazzi di là scusate per il volley pardon i ragazzi di Lanci rimasti in partita soltanto nel primo set andiamo a vedere il basket sul centro la serie A2 Est la seconda giornata con Roseto che non sbaglia primi due punti per gli Sharks all'esordio in casa e poi le abruzzesi di B l'Amatori sbanca Teramo e si aggiudica il primo derby poi esordio amaro per l'Europa Ovini al Pala Tricalle Giulia Nova che festeggia la prima in casa contro il Corato e poi per la serie C Silver Vasto Taspe NB Aquilano tengono il passo in testa è tutto per la nostra rassegna stampa grazie per averci seguito anche questa mattina l'appuntamento con la nostra informazione è oggi con il TG6 alle 14 alle 19 alle 23 e vi ricordo anche l'appuntamento di questa sera alle 21 con la trasmissione Replay che come sapete si occupa del Pescara in questa puntata che capita nella sosta di campionato è tutto davvero grazie ancora e buona giornata 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 e buona giornata